se prima era soltanto un'ipotesi adesso potrebbe essere una cosa più che mai concreta ricordate sicuramente bene e sicuramente meglio del sottoscritto quando qualche giorno fa parlavamo delle problematiche legate all'utilizzo di TikTok a livello europeo ebbene dopo qualche giorno delle dichiarazioni di von der Leyen comincia gradualmente ad essere discusso in Parlamento europeo nel Consiglio e nel Consiglio europeo dunque da questi punti di vista la questione social TikTok come viene utilizzato in Europa e tantissime sono le voci di un possibile burnout legato all'utilizzo di TikTok e un possibile stato di sofferenza legato proprio all'utilizzo di questo social a livello psicologico elementi che l'Europa sta analizzando e che porteranno forse a una separazione tra il social e il vecchio continente ne parliamo con i nostri ospiti come ogni mercoledì ci ha raggiunto William Nonnis, ciao William Ciao, buon pomeriggio Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a Savio Rociola che ci ha raggiunto in collegamento Ciao Savio, buon pomeriggio Buon pomeriggio a voi, grazie nuovamente per l'invito Allora, a quanto pare, William, si stanno analizzando i risvolti psicologici come diceva è un'apertura che TikTok potrebbe avere sui ragazzi, sui giovani e l'Europa starebbe utilizzando questa scusa per dire TikTok è pericoloso Ora, io non sono nato ieri e di certo non cado da un pero a me sembra più che mai che queste cose psicologiche siano soltanto una scusa perché parliamo di un social molto potente anche a livello politico e parliamo anche di un fattore legato al rapporto che il vecchio continente ha invece con gli Stati Uniti quindi sono un po' di frescacce, dai, diciamolo Ma assolutamente sì e condivido tutta la tua analisi perché è utopia questo che viene detto di rimuovere TikTok eccetera eccetera perché l'unico vero problema qualora ci fosse realmente al vaglio un'analisi da parte del Consiglio Europeo di una legge che tuteli la dipendenza dai dispositivi eccetera eccetera è appunto il dispositivo Allora sì, ma non può essere un'applicazione la dipendenza perché oggi dati alla mano confermano che la dipendenza in generale dal digitale è nata dal dispositivo Dentro al dispositivo abbiamo mille e miliardi di applicazioni, giochi e utility quindi non può assolutamente secondo ogni punto di vista l'Unione Europea in questo caso ma anche gli Stati Uniti scagliarsi contro un'applicazione è semplicemente un discorso di sovranità tecnologica visto che siamo anche a ridosso delle elezioni europee un discorso di campagna elettorale perché non possono gestire la campagna elettorale ma in questi canali, essendo aziende private, funziona che chi finanzia ha maggior rilevanza come giusto che sia ma allo stesso tempo cosa succede? è che qualora il Consiglio Europeo ma ci credo poco perché ormai siamo al termine del mandato di questa legislatura europea quindi diciamo che secondo me è utopiaggiato da questo punto di vista ma seconda cosa il discorso è il stock va trattato a questo punto se qualora ci fosse un'iniziativa del genere va trattato a questo punto Facebook, Twitter tutto quello che è dipendenza secondo loro anche Whatsapp è una dipendenza sì ma il tema è appunto questo legato all'utilizzo dei social si parla però appunto della commissione di fattori psicologici ma il discorso lo sottolini molto bene e tu dovrebbe allora essere steso a tutti i social altrimenti c'è la strategia di fare Facebook blu di utilizzare le luci giuste e d'altronde è un problema politico è più che chiaro Savio tu cosa ne pensi? Tu insomma vivi anche il mondo delle politiche giovanili e quindi conosci molto bene il fenomeno Sì, condivido e sottoscrivo tutto quello che è stato detto più che altro ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa quando abbiamo parlato degli Stati Uniti ne viene meno anche un fattore politico come è stato detto però se poi ovviamente si vuole andare a puntare sul concetto del può creare dipendenza può creare problemi a livello psicologico soprattutto sui giovani bisogna fare riferimento non solamente a TikTok ma a tutti i social e comunque allo strumento, al telefono che abbiamo nelle maniche è un potente mezzo e ci possiamo fare qualunque cosa bisogna però comunque leggevo, io personalmente TikTok non lo uso però leggevo sui giornali una settimana fa circa quando è uscita la notizia della Wonderlion io parlavano soprattutto di TikTok Lite che è un qualcosa che non è cioè non si è sviluppato in Italia però è una branca, possiamo definire TikTok che paga per mettere like o più video si vedono soltanto che questo ovviamente non c'è in Italia e in Francia e in Spagna magari si parlava anche di voler mettere un freno a questo poiché comunque è vero è un parere molto intelligente il tuo se posso aggiungere soprattutto nel mondo dei giovani che forse su questo tema sono un po' indietro eh sì comunque si può parlare di magari soldi facili diciamo in questa maniera avere semplicemente questo semplice gesto da fare con il dito quindi scorrere o magari mettere un like e ti pagano per fare questo e credo che nessuno lo vorrebbe più se darebbero tanti soldi per fare una cosa del genere ovviamente si parla di piccole cifre però va comunque a sottolineare una maggior dipendenza in un certo senso Andiamo da William perché il tema dicevi prima William coinvolge anche gli Stati Uniti allora noi facciamo un po' di passi indietro e recuperiamo la questione TikTok e Stati Uniti d'America grazie a un servizio preparato dal nostro Emanuele Landi che ci porta proprio oltreoceano e poi cerchiamo di capire veramente se è una guerra legata alla sovranità tecnologica e se l'Europa veramente può competere con la Cina e con gli Stati Uniti non lo so va bene parliamo dopo TikTok potrebbe avere le ore contate in America la Camera a stelle strisce infatti con 352 voti favorevoli e 65 contrari ha approvato la legge che apre la strada dal divieto di utilizzare il popolare social network negli Stati Uniti la motivazione dietro questa decisione risiederebbe nella possibilità che i dati degli utenti americani possano essere ripresi dal governo cinese prima di sapere se 170 milioni di utenti saranno privati del social ideato nel 2016 bisognerà aspettare la decisione del Senato in un primo momento c'è chi esprime perplessità per la rapidità della decisione sta di fatto che mentre il presidente Joe Biden non si opporrebbe a questa decisione e firmerebbe il disegno di legge Donald Trump invece che in passato l'aveva definito una minaccia per la sicurezza nazionale ora sarebbe contrario al divieto che andrebbe a rafforzare il nemico del popolo ossia meta proprietaria di Instagram e Facebook il tycoon tra l'altro durante la sua presidenza cercò di strappare il controllo di TikTok a ByteDance ma fu bloccato dai tribunali statunitensi la stessa società cinese ora ha un ultimatum di sei mesi per vendere la piattaforma che altrimenti sarebbe bloccata e bandita dal territorio nazionale intanto da Pechino la reazione è arrivata forte e diretta durante una conferenza stampa il portavoce del ministero Wang Wenbin ha accusato gli Stati Uniti di ricorrere ad atti di bullismo quando non riesce ad avere successo in un'egua competizione dichiarando come questa mossa si ritorcerà contro di loro insomma la palla passa al Senato la sensazione però è che tra uno scroll e l'altro il tempo di TikTok negli Stati Uniti si stia per esaurire e questo è il tema statunitense però la domanda rimane nel senso giustamente William parla di sovranità tecnologica ma l'Europa che sulla tecnologia rispetto a Cina e Stati Uniti proprio non ci siamo zero zero esatto l'hai detto tu non l'ho detto ma a questo punto che guerra vuole combattere William che cosa vuole fare allora nel servizio la cosa che dobbiamo far presente è una linea sottile che secondo me è molto importante durante il mandato Trump lui diciamo ha provato stare la scalata su ByteDance per comprare proprio TikTok successivamente col mandato Biden cosa è successo facciamo una legge che dietta l'utilizzo di TikTok negli Stati Uniti perché le nostre informazioni generate attraverso quei social devono restare a casa mia e io stato questi qua negli Stati Uniti dico tu TikTok se vuoi continuare a campare come si suol dire devi metterti all'asta a una società americana questo dice la norma proposta che sta al vaglio del governo americano e questo è sconcertante perché prima abbiamo avuto un presidente che voleva comprarla americano e non gli è stato permesso ora abbiamo una norma che ti dice no tu TikTok se vuoi continuare a vivere devi per forza passare in mano agli Stati Uniti capite benissimo che questa è una guerra tecnologica una guerra tecnologica che gli americani nei confronti dei cinesi stanno perdendo da anni non è TikTok il problema è da anni perché ormai tutti i componenti e i prodotti diciamo sono male in Cina come si suol dire quindi sono prodotti a casa loro ma l'altro aspetto fondamentale è che noi in Europa come dicevi tu Tommaso noi stiamo a guardare perché non abbiamo una non competenza di persone quindi di profili professionali no non abbiamo una competenza industriale che è diverso abbiamo problemi sulla componentistica i chip le batterie per le auto elettriche abbiamo tanti problemi e noi stiamo a guardare perché noi a livello europeo siamo passando il termine virgoletato logicamente schiavi di due stati che sono la Cina e gli Stati Uniti che a noi vendono questi prodotti e ci mettono a disposizione la nostra quotidianità ecco Savio questo è un tema non da poco perché è come se fossimo in mezzo a due grandi poli legati proprio al sistema di dominio del web e della rete beh sì sicuramente l'Europa rimane è indietro su questo e ne siamo comunque schiavi e dipendenti come è stato detto da precedentemente da William e ora bisogna capire noi riusciremo a fare il passo in avanti o rimarremo sempre indietro su questo perché comunque se un giorno ci diranno no voi non potete più utilizzare questo strumento noi rimarremo indietro lo subiremo sicuramente quello che è successo in America è una guerra e possiamo definirlo una guerra una guerra moderna magari non ci sono armi in questo caso però si sta combattendo tutto dal punto di vista tecnologico sulla potenza su ciò che si ha proprio a livello tecnologico e non solo dato che comunque ne rimane anche un aspetto politico ci sono le europee è tutto un poi le votazioni in America presto quindi comunque ci sarà ci sono tutti dei fattori e i social ovviamente per le europee che è successo William no no rido perché Savio sta centrando il tema perché tutto questo polverone è alzato fondamentalmente per le politiche non solo europee ricordiamoci che a novembre c'è l'elezione del presidente degli Stati Uniti d'America ricordiamoci questo piccolo particolare quindi quando io sento queste proposte perché io le chiamo proposte sono anche proposte antipopolare mi spiego meglio come fai tu oggi a dire a un ragazzo di boh quindi se diciamo vedi un po' tu l'età dire da domani non usi più i top ma c'è una ribellione sociale che la metà basta oggi puoi stare a livello sociale secondo il mio punto di vista si può stare anche senza lavoro ma nel momento in cui vengono tolti internet e i social la gente sbrocca e quindi di conseguenza si scattano una ribellione le famose ribellioni sociali che si facevano prima guarda mi ha dato una cosa sulla gente che sbrocca quando capita che c'è un momento proprio di instagram down whatsapp down io vedo veramente le persone andare fuori di testa ma non nel senso cattivo del termine proprio che cosa devo fare adesso cosa faccio come riempio si fermasse tutto esatto come riempio il mio tempo e questo non è un dato da poco però questo rientra in un concetto che dicevamo all'inizio come premessa la dipendenza non è da un software o un social è dallo strumento e la dipendenza la gestisci e la razionalizzi come portando nelle scuole nell'istruzione scolastica alle nuove generazioni perché devo usare quel dispositivo con quell'applicazione e per quanto tempo non puoi pretendere dall'oggi ad ormai di razionalizzare l'utilizzo dei social network con una norma della legge che dice da domani non usi più facebook ma chi sei cioè non sei nessuno per vietare io sto facendo un servizio perché alla fine internet lo paghiamo sul cellulare quindi di conseguenza tu non puoi vietare Davio anche il tuo parere su questo sono curioso no è tutto d'accordo comunque il principio è sempre quello come anche whatsapp ad esempio whatsapp è pur sempre social network gratuito domani decidono vi stacco whatsapp e poi che faccio torniamo agli sms c'è ormai quella dipendenza anche dallo stesso whatsapp che anche anche il semplice messaggio il gruppo della classe il gruppo del lavoro con la quale ormai comunichiamo se c'è quando abbiamo il abbiamo detto per il whatsapp down cioè ormai ne siamo totalmente dipendenti e che ci possiamo fare bisogna attualmente soprattutto per le giovani generazioni sapersi porre dei limiti e questi limiti li può imporre semplicemente la famiglia e la scuola che dovrebbero essere comunque i principali luoghi di istruzione per i giovani il giorno d'oggi quindi bisognerebbe comunque avere una sensibilizzazione maggiore in quest'ambito ne possiamo parlare veramente per ore comunque sia dei social ma ci potremmo collegare alla cibersicurezza a qualunque cosa e l'istruzione dovrebbe tener conto attualmente allora visto che siamo praticamente in chiusura faccio una domanda per entrambi ma con una risposta anche abbastanza flash allora a questo punto sarà un tema anche successivo all'europeo o soltanto strumentale per il periodo William? Sarà strumentale per il periodo perché poi ne sono convintissimo decide da chi verrà eletto uno schieramento o l'altro sia negli Stati Uniti sia a livello europeo sarà stato uno strumento di propaganda per dire io io te l'ho viato semplice questo sarà il discorso Siamo anche Savio No la stessa idea di William perché comunque ormai anche i social fanno parte della comunicazione magari dopo l'8 il 9 giugno e poi dopo novembre che si voterà negli Stati Uniti ci saranno altri al potere poi si tornerà a delle altre votazioni e il problema comunque magari uscirà nuovamente che potrebbe non essere TikTok o può essere Instagram o può essere qualsiasi altra cosa però è sempre un circolo diciamo continuo Bene ovviamente sono temi che come vedete coinvolgono tante questioni la questione dell'online la questione della politica e questo diciamo è un approfondimento che secondo me ha un mese esatto dalle elezioni europee andava fatto ed effettuato quindi grazie William Nonnis ci vediamo il prossimo mercoledì grazie mille ciao grazie grazie mille anche a Savio Rociola presto Savio ci risentiamo grazie a voi per l'invito buon pomeriggio a tutti quanti grazie grazie buon pomeriggio anche a te noi però restiamo sempre sulla pagina dei social perché i social media sono uno dei principali strumenti di narrazione quel social che passa attraverso il nostro lavoro l'informazione che passa attraverso i social in questo grande meccanismo che porta a permeare due tematiche ma come vedete come vedrete anche nel prossimo servizio molto spesso i rischi di una comunicazione non esatta e incorretta sono dietro l'angolo e portano il più delle volte a una grande sofferenza collettiva motivi che sono la base delle decisioni forse future della Commissione Europea prego le problematiche conseguenze dei social network stanno risvegliando qualche governo in Florida è stato vietato l'utilizzo di piattaforme social ai bambini e ai ragazzi di età inferiore a 17 anni indipendentemente dall'approvazione dei genitori la Camera dello Stato americano ha approvato come disegno di legge tale misura considerata di massima priorità per il portavoce dell'Assemblea la norma passa con 106 voti a favore e 16 contrari è previsto l'obbligo per le piattaforme di social media di chiudere i profili dei soggetti di età inferiore ai 17 anni e di utilizzare sistemi di verifica di terze parti per escludere i minoranni anche New York ha fatto causa ai social tacciandoli come un vero e proprio pericolo per la salute mentale così il Regno Unito che sta progettando di vietare i social ai minori di 16 anni nel frattempo Bruxelles ha annunciato che la Commissione Europea ha inviato indagini di non conformità nei confronti di Alphabet la società amata di Google Apple e Meta ai sensi del Digital Markets Act DMA la DMA è una normativa UE che affronta la concorrenza nello spazio digitale le aziende in questione essendo in posizione dominante devono garantire la concorrenza per quanto concerne Alphabet la Commissione è preoccupata per le restrizioni e i costi imposti dal suo App Store che impediscono agli sviluppatori di app di indirizzare i consumatori verso le offerte esterne la Commissione sta anche indagando sulla priorità di servizi di ricerca verticali di Google preoccupazioni simili nascono per Apple per Meta invece si indaga sul modello che o acconsenta l'utilizzo dei propri dati per pubblicità ammirata o permette di pagare per non avere pubblicità rischio anche per l'esistenza di Dittok negli States che temono per la sicurezza nazionale a causa dell'azienda madre del social controllata dal partito comunista cinese i tempi sono duri non solo per i social ma anche per la salvaguardia della sempre più fragile salute mentale concorrenza del mercato e democrazia nell'era contemporanea l'era contemporanea dunque è a rischio in base agli elementi psicologici che tra l'altro che abbiamo sottoposto adesso ma che come avete ben visto e ascoltato sono stati la base della nostra chiacchierata con William e con Savio mi prendo giusto un minuto per lanciare la seconda parte della rassegna video quella dedicata al fronte estero perché il tema tra l'altro sollevato ancora prima dei nostri ospiti è tutto di prospettiva una prospettiva che coinvolge le elezioni americane di novembre ottobre a novembre circa e ci porterà dentro altri quattro anni da una parte Joe Biden dall'altra Donald Trump in un duello che quattro anni fa vide la vittoria di Biden l'assalto a Capitol Hill e poi adesso la questione presente più che mai sul sistema dei grandi elettori si parla di silenzio di voto in bianco e di questioni delicate che coinvolgono il tycoon e l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America tycoon che come vedete mischiato tra la folla si avvicina gradualmente nell'attesa del voto di novembre prego regia è stato ufficialmente scritto un nuovo capitolo nella saga Trump vs magistratura americana nella patria di Hollywood parlare di Colossal è fin troppo semplice come risulta facile accostare ad una grande serie l'eterno scontro fra l'ex presidente ed i giudici stavolta le polemiche sono scaturite dal procedimento legato alla pornostar Stormy Daniels il giudice incaricato del processo Wang Mershan ha conferito una sanzione pecuniaria di mille dollari al tycoon reo di aver infranto l'ordine di silenzio per attaccare pubblicamente e ripetutamente testimoni pubblici ministeri e giurati e lo ha informato che sta valutando la possibilità di incarcerarlo non è la prima occasione in cui il giudice è costretto a ricorrere ad una sanzione nei confronti del presidente in carica dal 17 al 21 la settimana scorsa lo aveva multato con una pena di 9 mila dollari perché attraverso diverse dichiarazioni pubbliche sul suo social network Donald ha preso di mira i testimoni che partecipano al processo proprio per questo oltre alla sanzione amministrativa il giudice aveva imposto a Trump un gag order un silenzio restrittivo durante tutta la durata del processo l'ultima cosa che voglio è mettere in prigione ma ho un compito da svolgere il monito del giudice a Donald Trump tuttavia le vere noie per il tycoon verrebbero dagli ultimi sondaggi per ABC News Ipsos il presidente americano Joe Biden avrebbe superato il suo sfidante di 4 punti percentuali se si dovesse votare oggi il sondaggio ha rilevato che il 49% dei probabili elettori sosterrebbe Biden in uno scontro testa a testa con Trump che ha ricevuto solo il 45% di sostegno in questo quadro l'unico elemento utile per Trump è rappresentato dal fatto che l'80% dei suoi sostenitori ha affermato che lo sosterrebbe in ogni caso anche se venisse condannato nel caso di fondi neri all'ex porno star Stormy Daniels non soltanto la questione Stati Uniti d'America perché ovviamente la pagina estera nelle ultime ore tra l'altro abbiamo anche commentato nella giornata di ieri e ci ha portato ad aprire la pagina di Rafale le questioni del valico l'avanzamento di Israele e il tentato accordo tra Israele e Hamas poi smentito che ha portato poi alla quasi completa militarizzazione del valico toccato in queste ore dall'esercito israeliano ovviamente c'è grande preoccupazione a livello globale con pareri e discorsi ma noi cerchiamo di fare una sorta di recap di quanto è avvenuto in queste ore sul tema Rafale lo facciamo nel prossimo servizio realizzato da Vanessa Piccioni che ci porta proprio dentro questi argomenti e ci fa capire la difficoltà del fenomeno legato al decifrare quanto avviene nel suolo palestinese e non solo prego Regia iniziata l'invasione di Rafah non in maniera tradizionale con i mezzi corazzati che marciano nell'ultima città meridionale della striscia ma con l'occupazione che si traduce in un isolamento totale di Gaza della parte palestinese del valico che collega l'enclave palestinese all'Egitto lo comunicano ufficialmente le forze di difesa israeliane che con i loro tank hanno preso possesso del confine meridionale della striscia intanto è giallo sulla proposta di accordo siglata da Israele Hamas ha fatto sapere nella serata di ieri di aver accettato l'accordo per una tregua di sei settimane con lo stato ebraico versione smentita però dal governo di Tel Aviv secondo cui si tratterebbe di un accordo con un testo diverso e mai visionato dai vertici dell'esecutivo Netanyahu le forze israeliane di conseguenza non hanno messo in pausa le loro azioni militari nella striscia e hanno dato inizio all'offensiva per distruggere Hamas per lo stato ebraico l'accordo approvato dall'organizzazione islamista riferisce sarebbe stato modificato e lontano dalle richieste fondamentali israeliane allo stesso tempo però la stessa Tel Aviv invierà comunque una delegazione al Cairo per tenere colloqui con i mediatori nel tentativo di trovare un altro accordo che soddisfi le sue richieste e intanto a Rafah ad assumere il controllo del valico sono state le forze della brigata 410 il passaggio è ora disconnesso con la strada principale di Salah Adin nella parte orientale della città di Rafah a sua volta presa dalla brigata Givati durante l'offensiva di questa notte con tutti gli altri varchi al confine con Israele serrati Gaza è isolata con gli aiuti umanitari che non potranno più arrivare alla popolazione in difficoltà secondo i dati dell'IDF sono circa 20 miliziani armati uccisi e i soldati hanno localizzato tre significativi in bocchi di tunnel nella notte le forze israeliane hanno anche attaccato il valico di Kerem Shalom bombardando l'aria dall'alto e con il fuoco dell'artiglieria provocando vittime il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha già affermato che l'invasione di Rafah sarebbe intollerabile andiamo in chiusura della nostra giornata ci fermiamo tra poco per il telegiornale delle 16 nel quale ovviamente saranno analizzate le tematiche coinvolte soprattutto nella prima parte del programma il caso Toti il tema AstraZeneca le questioni morti sul lavoro il tema TikTok insomma tutti gli aggiornamenti poi rientriamo con il ring dedicato a tutti gli effetti alle questioni scolastiche e poi si parlerà di pre-grandi della musica di Andrè Dalla e Battisti e chiuderemo con la polemica Mentana Gruber che insomma ha un po' alimentato queste ore polemica anche abbastanza divertente che qua almeno con me non ci sarà mai perché chiudo sempre puntuale giusto regia? bene allora noi lanciamo la linea al TG e nessuno soffrirà più di incontinenza come ha detto la Gruber a Mentana è una citazione non è che facciamo una polemica pure qua se no ogni volta polemiche grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti